Ciao a tutti e ragazzi qui sono di oggi oggi come avete capito insomma dal dal cilindro qua riposto davanti a me fare una potente bevuta di blitz alla fine l'unica roba che dovete capire dei miei video è se faccio la potente bevuta o la potente degustazione che sono due robe molto diverse voglio dire, allora questa non è una blitz normale ovviamente ma che vi pensate voi? no, cioè si, no e la blitz senza zuccheri perché erano finite le altre o se no avrebbero quelle con i zuccheri allora perché ovviamente sono più gustosi i zuccheri permettono anche di integrare cose che non ci dicono quindi non fidatevi mai e apriamo questa blitz con tanto potere uuuuuh ha fatto pollo blu blu non è pazzesco l'odore non delude mai allora in teoria quella senza zuccheri quella senza zuccheri dovrebbe essere più dolce chiedetemi perché dovrebbe essere più dolce e ho fatto una scoperta ho scoperto che una bottiglia di blitz intera riesce a stare in questo bicchiere proprio perfettamente è una roba che io non mi aspettavo mai vedi vedi è proprio perfetta allora questa è una bottiglia bevuta quindi da un attimo avvicinare il bicchiere innanzitutto detto che c'è uno strato che troppo lo assumo ah con assorbimento bene non so perché è più dolce anche se senza zuccheri scusate ho appena corso dal letto alla cucina comunque è più dolce anche se senza zuccheri con taurina e caffeina attenzione bevitelo la notte perché sveglia allora bene io sono quasi pronto allora questa è molto fredda perché c'è un tipo di frego da ieri e il mio frego raffredda molto perché è un frego bene allora io mi sto preparando mentalmente lasciate like iscrivetevi campanellina abbonatevi e e mi dite che sì comunque è più dolce bene ragazzi allora due minuti e mezzo di video per spiegare questo è il momento di iniziare allora tre due uno via è ghiacciata stavolta mi sono contenuto oddio allora bene questa è la potente bevuta di Briz conclusioni finale alla fine è molto buona l'utilizzo da assaporare questa è la potente bevuta per fare un po' il il cricito oddio qua è bagnato e devo spiegare il bicchiere ti rendi conto bene ok ragazzi questa è la potente bevuta di Briz e e se noi ci vediamo in un prossimo video ciao